Allò! Buona domenica, belli! Ci siete? Io c'ho con Arachidini. Facciamo tipo un esame, un esame per voi. Voglio vedere quanto è diventata brava la chat, a vedere cosa non va bene nelle clip, no? C'è un eroe X-Men che c'è potere uguale, o il nome uguale. Che hype! Perché non metto io la musica così? Andiamo a vedere la partita normale, dai. Tarzetti, 1v3. Attenzione, con il random. Vorrei vedere prima il gameplay, ragazzi. Guardate prima il gameplay, prima di accusare, per favore. Io penso che ci vuole più culo che il resto. Capito? Sembra pad da mouse. Vero? Oh, 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 no, 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 no. Ma è vuote, c***o, vuote. Perché mi ha sparato proprio a me? Non ti incazzare, però. Fino adesso, ragazzi, cosa avete notato? Siamo arrivati a un livello dove io devo dire che c***o stanno usando. Lo dovete capire e dire voi. Facciamo un san cesario? E vabbè, vai. Mi c***o fanno gli altri, porco demonio. A me mai una volta succede. Non è un san cesario, allora. Come che c***o fanno gli altri? Mi sa che non ha settato niente sui veicoli. A sinistra c'è la mappa, raga. Ve lo lascio così senza far vedere clip e tutto. No, andiamo fuori. Gameplay normalissimo, eh. Così io, cioè, non è che prendo solo un pezzettino. Vi faccio vedere quello che mi puzza. Perché se lo faccio vedere, vuol dire che c'è le prove 100-100, no? Però dovete capire anche voi, raga, cosa usa. Vedo tantissime risposte sbagliate. Vi sbagliate tantissimo. Dovete guardare di più. Hai capito cosa vuol dire i suoi 60 FPS? Quindi cosa? Gli FPS? Vuol dire che c'è un problema di caricar... Ha caricato male la partita. E ha appesantito il server. Perché hanno quelle cale di FPS. Non è che problema. Qualsissi cheat, se non sbaglio, dai forum che ho letto, ti toglie come minimo 30 FPS. Anche l'anticid dovrebbe togliere un po' di FPS, in teoria. Adesso stiamo imparando il player. Stiamo imparando le sue capacità, qualità, skill, per capire in poi se veramente cheat o no. Se mi arriva un rato, fanno un full team, questo. Oh. Attenzione, sniper. Cos'è il francese? Arretra, arretra. Cos'è? Cos'è? Non ho capito l'info. Non ho capito la call. Ci parla che sia un team in teo. Minchia. Cioè, proprio, arrivano sotto la vele qua. Non ha ancora sparato un colpo. Dai. Fermi, fermi. Oh. Ocean o ocean? Ma cos'è? L'ha craccato? Oh. Quindi non ha settato niente sullo Swiss. San Cesaro? Queste sono le meccaniche del gioco. Che ti metti su un tetto a sparare sul tetto di airport. Possiamo andare avanti per favore. Io questo non riesco a vederlo. Ma sto finendo i colpi. Ha fatto qualche kill. Sai quel problema adesso? Cioè, prima non avevo notato quando guardavo alle 3 di notte i VOD, no? Adesso cos'ho notato? Quello sguardo. Quello sguardo qua. Questo sguardo qua per capire che sta pushando qualcuno o no. Capito, no? Questo qua. Molto preoccupato come sguardo, no? Mi sembra. Sulla mappa. Che non c'è un c***o sulla mappa. Molto preoccupante. Cioè, si sta preoccupando. Non pinga nessuno, però sta molto attento col lato lì. Adesso l'ho notato. Lui scende. C'è un team che sta pushando. E killa il suo teammate. Vedi? Sono saliti dall'altra parte. Vedi? Il suo teammate sta sparando con questo. Sono saliti... Non so se è un full team o no. Sono saliti dall'altra parte. Non mi sembra Wallhack, però. Fora Derin o Wawa attiva. Wallhack non sembra da come si muove, da come ha dato le spalle prima. C'è proprio Wallhack, no. Però, li sguardi dove si deve. Come on, two Eminem's. Ha detto due Eminem lì. Quindi sapeva che sono due Eminem lì. Mamma, mamma, mamma. Due Eminem's. Stanno rappando sul tetto. Ahahah. Se non sbaglio, questa ragazza mi ha scritto su Telegram e ha segnalato un altro streamer che c'è. Immagino. Sai quel meme dei Spider-Man? Sì. Comunque, si sta guardando sempre la minmappa. Anche se non pinga nessuno. Cioè, io la guardo così spesso la mappa, sì. Ma sono io. Io sono io. Io guardo più la mappa che il gameplay, però... Lui. Qua sinceramente andrei dall'altra parte in montagna, visto che c'è il cecchino. Ormai rimanere qua è molto rischioso. Attenzione. Momento stress. Tanta roba, zio. Tanta roba. Perché cercavo io i paddari con la mia restita nel team se ci sono i players così con la mossa testiera? Secondo me c'è il radar. Non avevo il facchino, però... Questo mi sa che è il primo che abbiamo boccato che sembra il radar. Perché il radar è il cheat che è molto difficile di sgammare. Cioè, devi vedere gli occhi dove guarda. Devi vedere pure il gameplay. Quindi non tutti hanno la webcam sugli occhi così che si vede. Cos'è il radar? È tipo la minimappa, però la setti dove vuoi e ti fa vedere i puntini dove sono i nemici. È tipo la minimappa con un guav avanzato. Attivo sempre. Perché con il C10 ha quella aimbot mentre con il car invece prendeva gli uccelli? Se non sbaglio è il cheat che è tipo full package, no? Puoi sitare tutto. Dalla percentuale del cheat, da quale cheat devi mettere, su quale arma, su quale no. Puoi sitare tutto. Per quello non puoi dire che uno non cheat perché c'ha il cheat su un'arma e l'altro no. A parte che l'Aimelok sul cecchino è troppo palese. Quindi se lo metti e già sei un coglione perché l'ha messo in una semi-mechanica del gioco. Perché l'Aimelok sul cecchino è la cosa più palese del gioco. L'Aimelok e Silent Ame sul cecchino è la cosa più palese del gioco. Non puoi, cioè non puoi usarlo e streamare. Ti becca pure uno che ha sparato due colpi al cecchino sa come vanno. Oh, eccolo è arrivato, simboli. È un mio amico, non è vero che usa cheat. E qua con me dice di cancellare tutto. Vecchia storia e nuovi amici. È un mio amico, non è vero che usa cheat. Ah beh, va bene. Ancora meglio se tu dici che non usa cheat. Vuol dire che ti sbagli pure te o ti sta dicendo le cazzate lui. C'è un cornuto che arriva. La stessa storia della settimana scorsa. Ma la stessa storia della qualsiasi settimana. C'è per forza un amico di un cheater che viene a dire che non è... Sembra dal KD. Mi devo qua. Allora, 1,80. Vediamo il settimanale del mese. 4,2. Io delle stats non dico mai che uno c'è delle stats. Però, per esempio, Pino Sbella era palese. Non sta giocando, non sta migliorando. Eccolo. 4,2 ieri. Oggi sta migliorando. Che lobby? 0,55. Attenzione. Attenzione. Ecco, finalmente abbiamo un'arma in mano decente, dai. Non male. Ah, ecco perché è morto quasi subito. Ma l'hai craccato tu? Ma non ti sta pingando? Non sai usare il sensore? Minchia, che tracking? Porca dra... Ma per il c***o non muore, che è io? Superman, un c***o. Certo che sparare così... Cioè, avvicinati, no? Avvicinati uno, raga. Avvicinatevi, no? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Wow. 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 Io dovevo usare il C10, raga, ve lo giuro. Che gameplay. Lo so, aspetta un attimo. Questo l'ho ammazzato, sono te. No, ho sbagliato l'arma. Ho f***o il c***o. Ah, non hai più quei settaggi lì? Vabbè. Stress moment. Uno v uno. La madonna. Io gioco da 14 anni a COD. E non solo a COD. Ma una mira così. Impressionante. È un mostro. Veramente è un mostro questo, te lo giuro. Non sa che riesce a farlo, comunque. A guardare due monitor. Schercialo, schercialo. Schercialo! No, perché ti sei fermato? No, ti blocchi così. Non scendere. Ma va a c***o. Oh mio Dio, ha fatto tutto. Sì, è normale. C***o. È tutto quello che si poteva fare sbagliato, l'ha fatto. Cos'è mi rassistita da mouse, raga? What the f***? Ecco dove si vede. Vabbè, se era da pad, non dicevo nulla. È la madonna! Che drop shot, zio. Ma io non riesco a fare i drop shot così. Ho distrutto, zio. Vabbè, è distrutto quello. Ah, ma c'è la sleeve. Ma c'è la sleeve, raga. C'è la sleeve sulla mano. Ah, ecco perché. C'è la sleeve. Ce l'ho pure io, vedi? Ce l'ho pure io. Ecco perché. Ecco perché. Perché non l'avete detto? Cioè, io sto guardando da un'ora questo qua, accusandolo di cheat. Accusandolo di aimlock. Accusandolo di non recall sui t10. Ma c'è la sleeve, ce l'ha facendo sulla mano. Sai se Ricochet's Gamma ha anche questo tipo di sleeve? C'è la sleeve, non penso. Perché qua la sleeve che c'ha lui, c'è il filo, no? Connette il PC. Quindi è un po' difficile. È tipo Kronos per il mouse. Morto l'alto. Occhio che ci sono quelli da davanti. Queste sono 3000 ore su aimlab, su tracking, raga. 3000 ore di cova che è aimlab. Non sa centrare il mirino, però tracka tutto. Qua stanno andando a TV station. Eccola. Eccola qua, la mia preferita. Tracking. Perfetto. C'è più bravo di lui, non esiste. A traccare la gente da mezzo flashato. Mettiamo in velocità. Dantissima. Eccolo. Tracking assurdo. Questa è la mia preferita. Qua non si può salvare nessuno. C'è pure il secondo salto che sta facendo quello lì, no? Quando si nocca e il petto che si alza e si abbassa. È così meccanico. È così meccanico che non puoi dire un cazzo. Il signor Kovac. Qua è pick fail. Ho spaiato un po' la città invece che ne ha fatto. Qua è pick fail. Però si vede bene che spara storto. E lui tanto ormai non si preoccupa da come sta sparando, no? Ha sparato tutto al pavimento. Poi ha schiacciato il tasto per loccare, secondo me. Si vede qua bene. Dopo con la clip lì e dopo questo si vede bene che qua. Poi ha schiacciato il tasto e ha fatto quel movimento, quel flick al petto. Guarda. No, non è morto, non è morto. Guarda quanti colpi ha sparato al muro. No, non è morto, non è morto. Al pavimento. Prima ne accorge se ne è che sta sparando storto. Capito? Questo per far capire che non sta concentrato dove sta sparando. Cioè lui spara e basta. Ormai il suo cervello non si preoccupa di come spara. Poi se ne è accorto che ha sparato tipo 15 colpi al pavimento. Ha schiacciato per loccarlo. E alla fine ha loccato. Non è morto. Ecco, Dindino ci gioca sempre, ha detto davvero. Ho visto che ci gioca sempre, Dindino. Che ne pensi, Dindy? Che sei il suo amico che giochi sempre. C'è un tasto per trovare il ciò? Sì, nel full package dei cheat puoi bindare qualsiasi key. Come sei comodo. Da quanto so non usa più nulla. Questo è dell'altro giorno, cara. Come non usa? Queste ultime live sto facendo vedere. Ciao Skrick. Oh, sto muovendo. Uno a terra. Uno a terra. Uno a terra. El C10 Master. Sono il suo fratello, confermo che non citta. Sono lo zio, confermo pure io, non c'è nulla. Sono il cugino del cognato della moglie, confermo che non citta. Bravo, allora. Guarda qua che la tracca dietro il muro. La locca. E qua? Solo il cheat, confermo che non citta. La gente sotto occhio. Sono il suo pc, confermo che è pulito. Questo è bello. Sono il suo pc, confermo che è pulito. Guarda. Guarda qua. Questo è Jarvis che le ha dato un po' di mira. Qua siamo a livello di aimbot, raga. Questo è il livello di aimbot. Veramente, questo siamo a livello di aimbot. Oh, late game, eh? Late game, raga. Ok, ho cinque team. Una bet, una bet, win. Io lo vedo caldo, eh? Io lo vedo caldissimo, secondo me. Abbiamo una safe a favore. Bella safe a favore, però. Vale? Occhio, no? Sono dietro. Siamo qua dietro, qua dietro, qua dietro. Attenzione, eh? Ok, siamo coperti. Io destra, tu sinistra. Destra, tu sinistra. Mica coordinazione, che coordinazione! Oh mio Dio! Ale, 2 di 1. 2 di 1. Io sinistra. Io sinistra, tu destra. Io destra, tu sinistra. Io sinistra. Io sinistra. Tu sinistra, io destra. Vai, 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 è calcatissimo. Vai, Vale, è tuo. Vale, dai! Occhio, la maschera. Dai, Vale! Grande, Vale! Grande! Grande, Vale, dai! Bravo, ho detto, se andavamo qui. Mamma mia! Che sudata! Madonna mia! Che sudata! Vale! Cariato! Che partita? È la partita da culo, o no? Ha vinto! Bravissimo! Stanchissimo, vero? Mamma mia, quanto è troppo real dato! Devi riposare! Mi è venuto un attacco cardiaco dopo. Che sto fatto! Oddio! Oddio, non so se piangere o ridere, te lo giuro! Mi è venuto un attacco cardiaco dopo. Che sto fatto! Dopo quale fight? Che le hai vinti tutti! Hai vinto tutti i fight, zio! Mamma mia! A me mi piace la sua faccia dopo la partita come si mette, guarda! Che sta per morì! Sta per mollare! Guarda! È sempre che ha fatto il solo YOLO 100K, l'ha vinto, guarda! Per una win con i C! Mi è venuto un attacco cardiaco, ha traccato troppo, raga! Quando tracchi troppo con il C-10 ti viene un attacco cardiaco, cioè il cuore che sta traccando! Vale, non vuoi dire niente? Cosa dovrei dire? Scusa, ti seguo sempre, ti faccio delle donazioni perché ti stimo e dici a me che cito! Ale, a me non mi interessa se fai le donazioni, se mi segui, puoi essere anche mio fratello! Ti faccio vedere lo stesso qua! Capito? Non mi interessa, cara! E una cosa è... Prima, l'altra cosa è cittare! Perché? Non so perché, Alex! Io ti vedo sempre nella chat, è vero, però a me non interessa chi! Dimmi tu perché citti, o vuoi dire che non stai citando, o vuoi dire qualcosa? Vuoi dire che non stai citando o vuoi ammettere che stai usando come minimo aimlock? Faccio 5-6 kill, è l'unica partita che ho fatto 21 kill in vita mia! Vabbè, non mi interessa neanche delle kill, eh! Non mi interessa! Non puoi dire nulla per dirmi... Non farmi... Non farmi vedere, capito? Non far vedere le mie clip! Vuoi dire che non stai usando nulla? Ci stiamo sbagliando? Chi sta pensando che sta usando qualcosa? Mi dispiace che pensi questo di me, il code non è l'unico gioco che mi interessi, lo dovresti sapere, no? Può parlare su Discord, Ale? Sinceramente, visto che sei il mio sub, visto che c'è i 200 messaggi sul mio canale, mi segui dal settembre, però ti do un consiglio, negare l'evidenza così non ti aiuta molto. Entra su Discord allora, cara. Punto scontrivo a Discord, entra lì che ti sposta e mi dici, voglio sentirti, voglio sentire come dici sì ho usato. Qua, Ale, entra, entra, entra qui, entra qui che ti sposto, entra questo link. Se ammetti... Verrà perdonato, giusto, Riccardo. Ha detto bene a lui. Se c'hai qualcosa da difendere. Alessandro, sei tu? Sei tu, Ale? Mi senti? Sì. Ciao. Dimmi. Mi hanno appena mandato... No, io ho niente a dirti, è perché mi hanno mandato il link che stavo andando via. Mi hanno mandato il link e sono andato a vedere cosa c'era. E qualcuno ti ha mandato il mio link, ma scusa, ma per l'unica volta in vita mia che faccio quelle kille lì, mi dicono che cita. Ci sono gente che fa 30 bomba a partita e non citano mai. È così. No, no, non è così. Ti ho mandato il nome di 10 persone e non mi hai neanche cagato, neanche risposto. No, io non cago nessuno, guarda. Cioè, io controllo e basta non rispondo. Perché se rispondo sì, cita, vanno a dire al citare, lo spaventano e cancellano le voti. Se non dico no, non cita, magari mi sbaglio. No, ma se io ti mandavo qualcosa, è una cosa che ti ho mandato in privato e in privato rimane, non è che glielo vado a dire gli altri, capito? Ok, sì. Per quanto riguarda me, Cod... Ma non rispondo a nessuno, Ale? Non rispondo a nessuno con le segnalazioni. Non rispondo a nessuno. Io ieri dalle 10 alle 3 di notte ho guardato le segnalazioni e ho risposto tipo su 17 persone, ho risposto a 3 persone. Capito? Controlla. No, no, io so che ti ho mandato, ti avevo mandato dei messaggi, non hai risposto, ho detto boh, non lo so, vabbè. Ok. Quelli sono la silenzione dei cheater, se vedo che è il cheater, la faccio vedere la Domenico. Ti hanno segnalato anche a te, immagina. Beh, a me mi hanno sempre segnalato, ma mi hanno segnalato anche quando facevo meno kill, anche quando giocavo da PlayStation, perché io citavo sempre perché gli stavo sul cazzo. E' quello il discorso, hai capito? Sai quante volte ti ho chiesto, ti ricordi quando ti ho chiesto TikTok che VPN usa, che volevo trovare anche io gente così scarsa, perché mi hanno rotto le balle, hai capito? E alla fine ho trovato la VPN, ho trovato gente un po' scarsa, ma non sempre la trovo. Tante volte faccio 2-3 kill e dopo basta, dipende dalle partite, lo sai anche tu questo, no? Non c'entra molto la VPN, abbiamo visto il gameplay, stiamo parlando del tuo gameplay. Sì, ma cosa hai visto del mio gameplay, scusami? Cosa ho fatto di strano? È il C10 che non missi mai un colpo? Non missi mai un colpo? Sì. Quello è il C10? Sì. Secondo te il C10 non è valida così? In che senso? È l'unica mitragita che uso? Ah, ma cosa vuol dire? Che mi trovo bene e l'ho imparato a gestire. Sì, tu giochi da mouse, però. Con il cechino faccio pagare e con il cechino faccio pagare perché non riesco a fare più di tanto partite buone e allora uso l'IC10 a salto. E quindi tutti stanno sbagliando, pensando che tu c'hai qualcosa settato sul C10 o magari settato anche sul Bullfrog o magari settato anche su M2. Beh, l'M2 è una vai d'arma, non è che serva un maestro per gestire un M2 da mouse, o no? Questo dovresti sapere anche tu. È ovvio che ascolto il tuo consiglio perché hai molta esperienza. Appunto. Ma dire che io cito per una partita che ho fatto così... No, no, ho fatto vedere 4 o 5 partite. Senza... 4 o 5 partite, scommetto 4 o 5 partite, ho fatto 21 kill. No, ma non mi interessa delle kill, Ale. Puoi fare anche una kill, ma cittando, capito? Cioè, puoi fare pure una kill, ma cittando. Capito cosa dico? Tipo quella TV station che ho fatto vedere prima. Non l'hai vista? No, no, non l'ho guardato. Ho solo visto il mio nome e sono venuto a intervenire perché è corretto che io non mando affanculo quelli che hanno fatto gli altri. Io è giusto che ci confrontiamo e secondo te se è giusto o no quello che ho fatto. Anche me è giusto perché è importante per me sentire e conoscere la persona e magari sentire le parole oneste, le cose oneste. Guarda, io ti giuro. Tu mi conosci, tu mi conosci, Ale. Sì che ti conosco. Mi devi dire. Io ti conosco e ti stimo di persona e di giocatore perché è una persona corretta e di Ducata. Parlami sincero. Ducata non ho voluto risponderti. Parlami sincero però. La stessa cosa che ce l'avevano con me l'hanno mandata a Rambo. Ti ricordi? Sì. Le stesse persone che hanno mandato le clip di Rambo hanno mandato la stessa clip mia. Ok. Nella clip di Rambo ho trovato il voto dove si è visto i quadratini. Eh vabbè ho capito ma anche senza quadratini c'è uno spara da due o trecento metri. Sì ma citava Rambo c'era palese. Ok. Ok quindi cosa c'entra Rambo? No perché le stesse persone che hanno segnalato lui hanno segnalato me e te le hanno mandato le clip a te. Sì ma avevano ragione su di Rambo e hanno ragione su di te. Solo che Rambo usava molto più palesemente. Tu lo usi un po' più in bloc così. E io sono da mouse. So come sparano gli armi. So che è molto umano missare i colpi. Con SMG da vicino. Ovvio. Con la parte io gli sbaglio con la mitraglietta un po' meno. Però capita tante volte che ne sbaglio di più. Però io ti dico che non uso OneLack, non uso AIMBOT e questo è il discorso. Non mi sembra giusto splittanarmi così anche perché io devo portare altri giochi nel canale e vieni a segnalare il mio canale per un gioco dove non si vede palesemente che io ho fatto qualcosa di sbagliato. Hai capito? È la parola di una persona contro un'altra. Chi conosce la meccanica del gioco si vede palesemente. che stai usando qualcosa come minimo sul C10. Capito? Ma come fai a mettere qualcosa su una sola arma? Scusami. In che senso come fai? Cioè stai scherzando? No ma io ti chiedo a te come fai a mettere un CIT su una sola arma? Io ti sto chiedendo a te. Guarda che i settaggi per qualsiasi arma ci sono. Capito? Ma i settaggi di cosa? Di aimlock? Di silent end per esempio? Tu ce l'hai l'Aimlock? Ma non conosco io quei settaggi di... Ma puoi dire che conosci, puoi dire che non conosci ma si vede come spare zio. È ovvio capito? Ma scusa ma una persona non può essere brava? Tu sei bravo con il cecchino, io sono bravo con altre Ami ma scusami. Ah quindi io sono bravo con il cecchino e tu sei bravo con il C10. Ma perché non può uno essere bravo con un Ami e un altro più bravo con l'altra? Beh in teoria sì, in teoria può, perché no? Allora il personaggio che ti avevo detto no? Che fa anche bei video su TikTok e tu lo conosci molto bene. Parliamo di te, parliamo di te. Eh vabbè, tu parli solo di me. C'è gente che fa 6 kill con un quiscop così, una di seguito all'altra. Anche io l'ho fatto, anche io l'ho fatto. Quello non uccita, ok? Anche io l'ho fatto. Stiamo parlando di te, stiamo parlando di altre persone. Ale, dai, sei sincero con me. Cioè io non litigherò con te. Ma io non devo litigare con nessuno. Però devi essere sincero. Quando dici le cose sincere si vedono, si capiscono. Perché dal gameplay è palese, capito? Dal gameplay è proprio palese. Perché da quelli game che abbiamo visto non hai missato mai... Cioè hai lockato sempre il petto con il C10. Pure da mezzo flashato, droppfruttando... Mezzo, mezzo flashato. Eh sì, mezzo flashato. Perché la flash stava già finendo, quasi quasi si vedeva l'amico e l'hai lockata proprio al petto dove stava lui davanti a te. E l'hai continuato a traccare finché non sei morto. Basta, su. Ho continuato a sparare come sparerebbe chiunque. Non è che ho mirato alla testa. Ho capito, capito. Ma era... Ti fidi della mia esperienza? Tutti i shot che fai sono perfetti. Sono perfetti. Però io ti dico, io su Codio non devo dimostrare niente a nessuno perché non mi interessa. Hai capito? Io mi diverto così e chi vuole venire a divertirsi diverte molto. Ma te se dal telefono riesci a guardare la clip? E me lo spieghi tu. Aspetta un attimo perché... Non ho le cuffiette, aspetta un attimo. Ma non ti serve l'audio? Mi senti adesso? Sento, sento, sento. Ok, ora sono io. Questa per esempio, caro. Guarda, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Vedete che c'è ritardo nel live, eh? Sì, sì. Ok. Aspetta un attimo, scusa. Cosa c'è in questa clip che non ti convince, scusami? La perfezione dei shot, come in tutto il gameplay. Non missi mai, caro. Non missi mai. Vediamo qua. Non missi mai, cara. Cioè, missi perché c'è il netcode. Quando una persona si muove, tu missi perché c'è il desync. Per quello. Solo lì missi. Non missi quando la persona più o meno non corre, capito? Cioè, entrano i colpi. Tipo qua. Tipo questo. Aspetta un attimo, perché non è che vedo tanto bene con il vivo a voce e tutto adesso. Cioè, qua è allocata, zio. Non è che ti devo far rivedere, Ale. Cioè, le sai, hai giocato tu qualche giorno fa. Cioè, non farlo stupido. Ma sì, lo so, lo so, quelle partite che ho fatto. Non è che mi devi chiedere. Cioè, ti ricordi, no? Certo che mi ricordo le partite. Allora. Guarda qua. Dimmi. Mi senti adesso? Sì, sì. È un po' che ho trovato il vivo a voce. No, me ne ricordo le partite. Non me le ricordo, non tutte, ma me le ricordo. Un commentino? Ti ho appena detto commenta, ti ho appena detto. E sei bravo? So gestire le mie armi, ma solo quelle lì. Mi hai visto usare il cecchino, mi hai visto fare il queenscop, mi hai visto fare giocate assurde che, secondo te, sono impossibili. Queste sono le giocate impossibili, Ale. Non mi sarei mai. Vincerei tutto in frontale con il C10. Nella modalità Iron Trials, capito? Tipo qui, per esempio. Guarda la macchina. Guarda il track. Il tracking della macchina. Sai cosa vuol dire il tracking? No, adesso non sto guardando da lei perché non si vede bene dal telefono. Devo fare avanti e indietro tra il Discord e il telefono. Va bene, va bene. Non ti metto in difficoltà, scusami. No, non è per la difficoltà. È perché c'ho casini in casa e la si sente sottofonda, capito? Quindi non ammetti che stai usando l'Aimlock? Non posso ammettere una cosa che non ho. Ti devo fare contenta alla community che io uso qualcosa. No, non devi accontentare nessuno, Fidel. Cioè, volevo sentire quello che devi dire. Quindi anche una persona vicino a me che mi conosce, che mi segue, che fa la sab, che tutto, che mi conosce, che si fida, non sarà onesta una persona così. Quindi ho capito io nell'esperienza, nella vita, l'ho presa da te pure. Che mi dici che una persona così vicino a me non sarà sincera fino alla fine. Tu non sei sincero? Secondo te io non sono sincero. Io te l'ho detto, io non ho niente a dimostrare a nessuno. Sì, hai ragione. Questa cosa qua che tu hai fatto vedere agli altri, no? Io sto facendo vedere, per prima cosa, per imparare a distinguere il cheater o le meccaniche del gioco da quelle che sono tipo con gli aiutini, no? Eh, questa è la prima cosa. Seconda cosa, per ridere un po', perché a far ridere, vedere queste cose e sentire dalla gente che non usa niente, capito? Dalla gente che non usa niente. Tu sei sicuro che su Code la gente non usa niente? Io, no, non sono sicuro. Sto dicendo il contrario, che sto sentendo da te che non usi niente. Invece, stai usando qualcosa. Vabbè, secondo te io uso qualcosa, vabbè. Che ti devo dire? Niente, niente. Ti ho sentito già tutto. Io, io, è giusto, è giusto che... Sarebbe stato anche... Io, è giusto, mi dicevi, guarda, che mi hanno riferito a questo, visto che... No, 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 non funziona così. Non funziona così. Ah, non funziona così, ho capito. Tutti mi chiedono la stessa cosa. Tutti i cheaters mi chiedono la stessa cosa. Ma perché non me l'hai detto prima? Che cosa ti devo dire prima? Che cosa ti devo dire? Cioè, che cosa ti devo dire prima a un cheater? Tu immagina, no? Che uno l'ha beccato a citare. Che cosa le dici? Stai citando, zio? Ok, poi cosa succede? Lo ammette? Ti dice, sì, hai ragione, sto citando, lo cancello tutto, ciao. I colpi vanno alla testa e ammassi sempre tutti quelli che incontro? Sì, citi. Non mi pare di ammassare tutti quelli che incontro. C'è la differenza, ragazzi. Perché l'unica partita è che ho trovato gente che non mi prendeva bene e li ho ammazzati prima io di loro. No, non è quella la questione. Giusto? Non è quella la questione, Ale. Non è quella la questione. È la questione dei meccanici della mira che c'hai, capito? Io sono da mouse e so che sbagliare è umano. Tu non sbagli mai, on the shot. Ah, io non sbaglio mai. Io non sbaglio mai. Sì, esatto. Ah, ok. Secondo te io non sbaglio mai? Allora mi sa che non hai guardato tutte le partite che ho fatto. Ho guardato cinque partite e non hai sbagliato mai. Guarda qua, per esempio. Guarda, per favore, questo qua. Un minuto, per favore. Questo minuto qua mi interessa, se riesci. Quale minuto? Questo qua, che sto facendo vedere adesso. Lo guardo, lo guardo, lo ha letto... Va bene. Lo ha letto telefono. Vai, dove sei? Ma ti ricordo comunque che in questa partita qua eravamo in due, che gli sparava la macchina, sai? No, no, guarda lì a TV station. Sì, sì. Guarda lì a TV station quando ti flashano. Il no recoil che ho? Io ho il no recoil, va bene. Dove lo devo far vedere anche che non uso niente, scusa. Devo dimostrare qualcosa a qualcuno io per caso. Ho messo qualcosa a qualcuno? No, niente, gara. Ti ho già sentito. Non so cosa dirti più. Io voglio solo sincerità. Tipo, hai fatto l'esempio di John Rambo che quello, si è visto pure i quadratini e tutto nella stream, l'ha messo. Ma c'erano anche gli altri, c'erano non solo. Gli ho visti quasi tutti i video che hai fatto. Non mi pareva di giocare come loro. Sì, ma sto dicendo che alcuni lo ammettono, alcuni no, basta. Per me non cambia... Tanto ti aggiungo nella lista, Ale. Perché secondo me... Sì, beh, ti ringrazio di questo. Grazie a te. Buona domenica, cara. Vabbè, buona domenica. Ciao, fratto. Mi dispiace. A me mi fa godere la cosa quando la gente ammette, almeno. A me mi fa godere la cosa quando la gente ammette, almeno la gente ammette. Grazie a tutti